bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono Jack03 scusate se non porto da un bel po' di tempo video ma ero impegnato infatti come non so se mi state vedendo però sono abbronzato quindi sono adotto al mare e non ho avuto in campagna e non ho avuto tempo per registrare ma questo non è un gameplay o qualcos'altro ma è solamente uno speciale per i 10 iscritti ragazzi non pensavo che in così poco tempo come una settimana o una cosa del genere saremmo riusciti ad arrivare già a 10 iscritti perché scusate per i capelli di merda però ce li ho lunghissimi perché in pratica il mio parrucchiere è partito non so dove in culonia e non mi ha potuto tagliare i capelli quindi scusate se sto così questo non sarà un video lungo tipo di 9-10 minuti però pochissimi minuti proprio perché è uno speciale dei 10 iscritti volevo ringraziarvi a tutti quanti per questa somma ragionta che è abbastanza cioè io me lo sono aperto appena una settimana fa il canale e già 10 iscritti anche se adesso sono appena andato a controllare e ne abbiamo 11 non 10 però l'ho fatto oggi lo speciale perché appunto vi ho detto che non avevo tempo ragazzi mi sa che devo cambiare app perché questa è un po' brutta perché fa vedere tutte queste cose però è bella che c'è la pubblicità sopra quella devo cercare devo trovare un'app migliore per questi tipo di vlog video questo genere grazie quindi accendiamo le luci attenzione togliamo tutto attenzione rullo di tamburi e grazie a tutti per questa somma raggiunta ragazzi volevo solo dirvi che oggi sono appunto andato all'ocean e ho mangiato per la mia prima volta il sushi ragazzi possiamo mettere a livello normale cioè vi devo far vedere un'altra cosa non so dei miei seguaci chi conosce Salmo che è un cantante rap per chi non lo conoscesse che nello scorso video ho fatto la top 5 cantanti rapper e trapper migliori per me e ragazzi tanto tempo fa sono andato al concerto di Salmo e lui mi ha fatto l'autografo si si ragazzi poi ragazzi ero indeciso se comprare tre libri all'ocean ho deciso cioè ero indeciso tra Harry Potter un altro che è tipo degli dei che c'è tipo un ragazzo che è un semidio non è uscito il film oppure piccoli brividi la casa della morte e appunto ho preso questo perché io amo ma amo alla follia i film sia i film che i libri horror quindi ho deciso di iniziare la connessione di piccoli brividi perché ce ne sono tipo un sacco in quella libreria quindi devo andare a vedere più spesso e ragazzi non vi ho ancora detto da quando ho aperto il canale che io ho una playstation 4 pro ho FIFA 17, Uncharted 4, Assassin's Creed 3, 4 e 5 mi sa no bugia ho Assassin's Creed 2, 3 e 4 e altri videogiochi però ragazzi una novità è uscito Assassin's Creed qual era? Origins sta uscendo quindi è in fase di uscita in America è già uscito in Italia no quindi io lo vorrei comprare perché quindi ci sarà vi porterò dei video su Assassin's Creed sempre se me lo compra perché il mio zio me lo comprerà quando il 12 o il 22 settembre quando uscirà FIFA 18 io ovviamente lo comprerò e vi porterò la serie di Alex Hunter e altri molti altri c'è molte altre partite anche creerò farò cadere i calciatori creerò tutti gli youtuber come a FIFA 17 ho creato Favij per ora e devo creare mi sa o Anima o qualche altro youtuber non mi ricordo come si chiama vabbè ragazzi vi devo far vedere la foto una foto spettacolare e ci vediamo troppo questa qua questa foto proprio entrerà nella storia dai cacchio cioè questo era il mio sogno da sempre bene ragazzi se questo video mi raccomando in questo video dovete spolliciare e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale bye bye